Partirà dal prossimo 22 giugno la consueta operazione Mare Sicuro condotta dalla Guardia Costiera di Milazzo. Il comandante Matteo Lopresti ha illustrato stamattina alla stampa i dettagli dell'edizione 2015 che anche quest'anno vedrà impegnato il personale della Capitaneria di Porto di Milazzo lungo le spiagge, in mare, presso gli stabilimenti balneari e nelle strutture dedicate alla nautica da di Porto al fine di vigilare sul rispetto delle normative vigenti in materia di balneazione e navigazione, obiettivo strettamente connesso alla tutela e protezione dell'ambiente marino e costiero e delle risorse ittiche. Noi svolgeremo un'attività con pattuglie sia a terra che a mare con le nostre modovedette. Ovviamente l'operazione inizia il 22 giugno, terminerà il 13 settembre e giornalmente vi sarà del personale sia a terra che a mare che avrà come obiettivo primario quello di far rispettare le norme di sicurezza sia in materia di balneazione che in materia di porto nautico. Vigilerete anche sulla parte amministrativa per quanto riguarda i locali sul demanio marittimo? Ovviamente, anche lì faremo un'attività di controllo. Abbiamo già fatto un'attività preventiva iniziata sin da aprile dove abbiamo riunito tutti i vari concessionari del demanio, attività preventiva dove abbiamo ricordato quali sono le norme che bisogna rispettare e quindi adesso si andrà ad effettuare le verifiche e a vedere se i concessionari sono stati bravi a far tesoro dei consigli che abbiamo dato durante l'attività di prevenzione. Grazie. 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 Grazie.